Non aveva più sogni né desideri, andarsene senza dolore era l'unica cosa che voleva e che io potevo dargli. Nelle parole di Mina Welby c'è tutto il dramma della storia del marito Pier Giorgio, protagonista di un caso che ha diviso la società italiana. Pier Giorgio Welby a 16 anni era stato colpito da distrofia muscolare, la sua situazione si era via via aggravata, non poteva respirare da solo, era assolutamente immobile, era però molto lucido dal punto di vista intellettuale e divenne protagonista di una campagna a favore di una legge sul fine vita. Lasciatemi morire fu il titolo del libro che diede alle stampe in quegli anni. La sua richiesta di fine dell'accanimento terapeutico però venne respinta e alla fine la decisione di staccare la spina dopo averlo sedato fu affidata a un medico anestesista Mario Riccio che venne processato e assolto. Ci vorranno ancora 10 anni, 2017, prima che il Parlamento decidesse di varare una legge sul fine vita.